No, ma senza... Siamo in linea perfetta con quelli che sono gli equilibri politici, che è giusto che ci siano nell'andare a definire un programma di governo e soprattutto una struttura di governo che deve governare per cinque anni. Quindi se dovessimo darci un termine entro venerdì possiamo dirlo? Sicuramente sì. Grazie. Grazie.